Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di zaini da trekking ultralight. Nel dettaglio ho qui il Deuter Air Contact Ultra 50 litri, il Gregory Focal 48 e l'Osprey Exos 48. Vedremo insieme le differenze tra questi tre zaini e soprattutto cercheremo di capire quale è il migliore tra i tre. Detto ciò, iniziamo subito col video. Iniziamo dall'Osprey Exos 48. Vi dico innanzitutto che è disponibile anche in altre taglie, c'è anche la versione 58 se non ricordo male, e questo zaino è regolabile sulla parte posteriore dello schienale. Prima di vedere i pregi e difetti suoi, vi dico che ho preferito l'Exos dell'anno scorso, perché la versione Pro uscita quest'anno abbiamo fatto la recensione e aveva diversi problemi, soprattutto sullo schienale, e penso che la versione dell'anno scorso sia migliore. Un pochino più pesante, ma migliore. Iniziamo vedendo cosa mi è piaciuto di questo Exos 48, ovvero lo schienale, che è il più traspirabile tra i tre che vedremo, quindi il sistema airspeed di Osprey molto bene, molto bene anche la fascia lombare perché avvolge molto bene le anche, il problema è che la fascia lombare lavora molto bene se andiamo a tirare completamente le cinghie laterali di compressione dello zaino. E questo è un problema perché se tiriamo completamente le cinghie laterali non possiamo inserire la borraccia, e se non andiamo a inserire la borraccia invece la cinghia lombare tenderà a lavorare molto meno bene. La parte che meno mi è piaciuta di questo Exos è la parte posteriore. Iniziando dal laterale, queste cinghie laterali da tirare è una cinghia unica lunghissima, e come vi dicevo c'è il problema che passa davanti alla tasca per la borraccia, e dobbiamo scegliere se stringere lo zaino o portare la borraccia. Nella parte posteriore, vera e propria, troviamo poi un sacco di cinghie messe lì un po' a casaccio. Bene che ci siano, però se non vogliamo utilizzarle le dobbiamo togliere, se poi le vogliamo riutilizzare dobbiamo andare a rimetterle. Diciamo che si poteva studiare molto molto meglio perché davvero ci sono cinghie innanzitutto dello stesso colore e già distinguerle non è semplice. Secondo me poteva essere studiato molto meglio, e poteva essere studiata molto meglio anche il cappuccio. Cappuccio rimovibile, e quando lo rimuoviamo troviamo una patella incollata allo zaino per andare a sostituirlo. Essendo incollata allo zaino questa patella dà particolare fastidio quando utilizziamo il cappuccio perché è sempre in mezzo alle balle, cioè davvero non c'è una tasca dove riporla, non c'è nessun modo per metterla da qualche parte, in modo tale che non dia fastidio, e vi assicuro questo è un grosso difetto. E poi in sé la patella è proprio un pezzo di tessuto messo lì, si poteva studiare molto meglio. Passiamo ora al Gregory Focal, che è possibile acquistarlo anche nella taglia da 38 e 58 litri, se non ricordo male. Questo è uno zaino che ha diverse taglie perché la parte posteriore dello schienale non è regolabile. Mi raccomando andate a provarlo per prendere la taglia giusta per voi. Iniziamo dalla parte che forse meno mi è piaciuta di questo Gregory, ovvero lo schienale. Un pochino meno traspirante, diciamo che la traspirabilità bene ma non benissimo, soprattutto la fascia lombare bene ma non benissimo. Scarica il peso ma potrebbe fare qualcosa di più se fosse stata studiata un pochino più pretensionata. E il vero problema è che poi la fascia lombare è molto molto generosa. Se siete delle persone particolarmente snelle, potrebbe essere per voi un grosso problema utilizzare questo zaino e dovesse proprio non prenderlo in considerazione. Quindi maggior ragione andate a provare questo zaino prima di acquistarlo. La parte invece che più mi è piaciuta, sempre sullo schienale, che troviamo un sistema Free Float di Gregory, che davvero fa la differenza quando abbiamo uno zaino completamente carico nel trasportare il materiale. Camminiamo e non sentiamo lo zaino ingombrante, dobbiamo chinarci, magari passare da dei percorsi un pochino ostici, e lì fa veramente la differenza. Cioè questo sistema Free Float fa sì che noi, anche se abbiamo uno zaino magari con 12 kg sulle spalle, non ci sentiamo obbligati costretti nei movimenti. Il secondo aspetto che mi è piaciuto è tutta la parte posteriore. In questo caso troviamo delle cinghie studiate molto bene, ne troviamo due sulla parte laterale che passano all'interno della rete da borraccia, quindi non dobbiamo decidere se utilizzare la borraccia o chiudere lo zaino, e poi essendo due possiamo chiudere lo zaino come vogliamo, un po' a piacimento. Non troviamo delle cinghie messe nella parte bassa tutte confusionarie, ma troviamo sempre delle cinghie singole che possono sempre restare lì, non rompono le scatole, quindi studiato molto meglio per quanto riguarda le fettucce questo Gregory. E terzo aspetto che mi è piaciuto, la parte superiore del cappuccio. Cappuccio anche lui removibile, viene data in dotazione una patella da poter andare a utilizzare per richiudere lo zaino quando troviamo il cappuccio. Innanzitutto la patella è removibile anche lei, nel senso se non abbiamo bisogno possiamo benissimo lasciarla a casa e non disturba, e poi in generale la patella è studiata molto meglio. Ultimo aspetto, questo Gregory è l'unico dei tre che ha il Rain Cover dato in dotazione. Volendo possiamo lasciare a casa anche lui, però per il trekking secondo me il Rain Cover è un must have e bisogna sempre averlo dietro. A questo punto facciamo un attimo la differenza tra il Gregory Focal e lo Spray Exos. A livello di traspirabilità, come vi dicevo, vince l'Exos perché è un pelino più traspirabile, ma di poco, non è che parliamo di una grande differenza. A livello di fascia lombare, avendo l'Exos questo problema del o borraccia o fascia lombare, diciamo che la capacità della fascia lombare diminuisce e quindi arrivano a essere equiparabili, quindi diciamo che la fascia lombare può essere uguale in entrambi. La differenza sta che l'Exos è molto più personalizzabile, molto più utilizzabile, perché ha uno schienale aggiustabile in base alla nostra altezza. Il Gregory invece dovete assolutamente andare a provarlo per capire qual è la taglia migliore per voi e per vedere se vi si chiude la fascia lombare. Quindi questa è la prima grande differenza tra questi due zaini. Passando alla parte posteriore invece, direi che il Gregory è studiato decisamente meglio. Sia per quanto riguarda le cinghe laterali di compressione, che qua ne troviamo due molto più utilizzabili e che non ci costringono a dover lasciare a casa la borraccia, cosa che invece troviamo sull'Exos. Nella parte inferiore l'Exos è molto più confusionario rispetto al Gregory, quindi anche da questo punto di vista il Gregory è migliore. Sulla parte del cappuccio in generale il Gregory è studiato meglio, perché la patella potendola lasciare a casa se non ci serve non ci disturba. L'Exos invece ha sempre la patella attaccata e disturba molto. A livello di materiali l'Exos è fatto con un nylon 100 denari, completamente 100 denari. Il Gregory invece è fatto con due tipi di nylon. Nelle parti diciamo meno soggette a usura è fatto con un 100 denari. Nella parte inferiore più soggetto a usura è fatto con un 210 denari. Questo vuol dire che alla lunga durerà molto di più il Gregory. Quindi anche da questo punto di vista vince il Gregory. E infine c'è lui, il Deuter Air Contact Ultra da 50 litri. È uno zaino completamente diverso dai due che abbiamo visto prima, perché è uno zaino con uno schienale ergonomico. Nella fascia degli schienali ergonomici è sicuramente molto traspirante, però confruttandolo con due zaini con la rete tensionata ha la minor traspirabilità tra i tre e ci sta. La parte però che favorisce questo Deuter avendo questo schienale ergonomico è la possibilità di portare molti più chili. La fascia lombare lavora molto meglio perché lo zaino è attaccato alla nostra schiena, quindi possiamo portare molti più chili. Se con gli altri due diciamo che 10-11 kg massimo, con questo possiamo arrivare anche a 13-14 massimo. Quindi diciamo che in generale lui è sicuramente più utilizzabile per portare tanto peso. A livello di parte posteriore lui è sicuramente il più scarno tra i tre. Troviamo nella parte laterale una cinghia che ci permette di chiudere lo zaino che però passa davanti alla rete dove andare insieme la borraccia. Questo però non influisce sulle performance della fascia lombare e nella parte posteriore dove c'è la tasca rete non troviamo nessun tipo di cinghia per andare a portare un carico aggiuntivo. Possiamo decidere o di utilizzare delle cinghie aggiuntive che non sono date in dotazione oppure di togliere le cinghie laterali di compressione dello zaino e utilizzare queste per trasportare del carico aggiuntivo. Nella parte superiore poi il cappuccio anche qua è removibile ma non troviamo nessuna patella non troviamo nulla dato in dotazione da Deuter per poter andare a mettere una proiezione nella parte superiore dello zaino e in questo caso resterà proprio l'apertura della sacca singola dello zaino in bella vista. In questo zaino poi non viene nemmeno data in dotazione un rain cover. A livello di materiale diciamo che lui è a metà tra il Gregory e l'Osprey perché utilizza per tutto lo zaino un nylon 175 denari che è diciamo a metà quindi a livello di materiale si colloca a metà. Dunque qual è il miglior zaino tra i tre? Diciamo che non c'è una vera risposta. Ognuno dei tre zaini dà il meglio di sé in un singolo utilizzo. L'Exos dà il meglio di sé come zaino diciamo per star fuori pochi giorni quindi magari qualche trekking dal trarifugio dove non portiamo tanto materiale trekking in giornata. ve lo sconsiglio se dovete fare dei trekking molto lunghi. In compenso per i trekking molto lunghi potete portare il Gregory. Il Gregory in quel caso va bene anche per dei trekking in tenda va bene per star fuori anche tanti giorni soprattutto anche grazie al sistema Free Float vi aiuterà a trasportare molto bene il carico e poi comunque è molto meno incasinato è molto più semplice utilizzarlo davvero rispetto all'Exos. Se invece dovete portare tanto tanto materiale quindi avete bisogno di uno zaino con un certo sostegno andate sul Deuter. In questo caso il Deuter con il suo schienale ergonomico è sicuramente quello migliore per trasportare tanti chili e per poter star fuori tanti giorni. Detto ciò ragazzi io nella speranza di avervi aiutato a scegliere il vostro prossimo zaino ultralight vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!